Secondo la Corte d'Assise d'Appello di Catanzaro, l'omicidio del biologo Matteo Vinci, avvenuto il 9 aprile 2018 all'Imbadi, in provincia di Vibo, Valencia, con un'autobomba, non è stato un delitto di mafia ma è il risultato di una faida tra vicini per un terreno agricolo segnata dall'odio reciproco. I responsabili, Rosaria Mancuso e il genero Vito Barbara, sono stati condannati all'ergastolo grazie alle intercettazioni ambientali che li hanno incriminati, rivelando preoccupazione per le indagini e la pianificazione di un nuovo attacco qualora il padre di Vinci fosse sopravvissuto. La Corte, pur riconoscendo la parentela di Mancuso con noti boss d'Indrangheta, ha escluso l'aggravante mafiosa poiché non è stata fornita prova del suo legame diretto con la Cosca. Inoltre, il terreno contese risulterebbe essere di proprietà della Mancuso, eliminando l'ipotesi di estorsione e quindi l'aggravante mafiosa, nonostante l'uso barbaro dell'autobomba.